buongiorno puntida è dal 92 che vengo qui ma tanta gente così non l'ho vista non c'è un buco vuoto complimenti a tutti noi vi do solo due numeri 3 e 13 giocateli all'otto 3 sono i consiglieri regionali eletti Sandro Zaffiri Marzia Malaigia e un altro Zura Punteroni Luigi che non è qui per motivi di famiglia ma sarà con noi domani all'inaugurazione del gruppo Lega Nord e 13 è la percentuale che abbiamo raggiunto con punte del 17 vi do solo un altro dato nel 2013 eravamo allo 0 7% all'europea il 3 adesso siamo al 13 e saliremo ancora un grazie evidentemente va in primo luogo a Matteo Salvini il quale devo dire che nelle Marche ha stabilito un merito è il più aggredito la regione in cui è stato più aggredito su 7 venute è stato aggredito 5 volte dai centri sociali gli hanno tirato di tutto petardi uova sassi abbiamo un record di zecche un record comunque un altro grazie ai nostri generosi militanti che pochissimi hanno contribuito a raccogliere firme a combattere casa per casa città per città portando a questo risultato e infine un saluto e un grazie a tutti voi perché siamo la regione tra le più a sud e la padania ma sentiamo di fare parte dello stesso corpo di quel grande corpo che è qui a Pontida grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti